Trovo una straordinaria omogeneità culturale in tutta la marineria della costa, mi trovo affettivamente coinvolto. O sono a Terrasini, o sono a Isola delle Femmere, o su Baglicarino, o a Porticello, o a Termino, o a Trabbia, per me è la stessa cosa, è la stessa gente, sostanzialmente. Il fatto che io arrivo ad Aspa e mi ritrovo fra persone con cui ho trascorso l'infanzia e con cui magari ho fatto lo scapezzacollo è un fatto diverso, ma generalmente quando comprendiamo quello che succede attorno a noi, quando comprendiamo i gesti delle persone, le strategie adottate, gli strumenti, quello che vediamo sotto gli occhi, quando ci sentiamo a casa, con un'altra differenza, mi è capitato di essere presenti in comunità marinare e cristale europea. Il mare unisce, sostanzialmente, culturalmente, si tratta della stessa gente.